Appuntamento alle 18, mercoledì 26 luglio per il Consiglio Comunale autoconvocato a 9 giorni esatti da quel lunedì 17 che ha riportato Padova a rivivere scene della sua storia passata. Piazza delle Erbe si fronteggiano da un lato le forze dell'ordine e dall'altro il corteo degli antagonisti che ha lasciato il sitino autorizzato di piazza insurrezione per manifestare contro gli esponenti di forza nuova che durante il tragitto verso Piazza Antenore hanno tirato fuori simboli fascisti e bandiere. A terra restano 5 poliziotti feriti e una dimostrante, 3 le persone arrestate. Scontri che innescano le polemiche soprattutto per la presenza a fianco dei centri sociali di due consiglieri comunali eletti nelle fila di coalizione civica Daniela Ruffini e Stefano Ferro. Sfiora le 1500 firme la petizione online lanciata sulla piattaforma change.org del consigliere comunale della legale in Luciani con la richiesta delle dimissioni di Daniela Ruffini. Ma ad alimentare il fuoco e fare ulteriormente scricchiolare la maggioranza ci pensa un altro consigliere comunale eletto Roberto Marinello che per la prima volta chiede e ottiene sala gruppi di Palazzo Moroni per una conferenza del centro sociale Petro venerdì scorso. Consiglio comunale caldo tra 24 ore con il sindaco Giordani chiamato a rendere conto dell'operato della sua amministrazione e il parlamentino che dovrà votare due mozioni, una presentata dalla minoranza, l'altra dalla maggioranza che chiedono entrambe la condanna alla violenza da parte della città.